Sanità in difficoltà economiche, esigenze nuove e più complesse grazie allo sviluppo della tecnologia e il bisogno di garantire servizi sempre più precisi e soddisfacenti per i pazienti. Un dilemma che sempre più spesso trova soluzioni nella solidarietà, proprio come al reparto di chirurgia pediatrica di Pescara. Una cosa che a noi in età pediatrica era particolarmente utile erano degli strumenti ancora più miniaturizzati, in maniera che attraverso non più taglietti di 5 mm ma taglietti più piccoli ancora di meno di 3 mm noi riusciamo a inserire nella cavità del bambino, chiaramente più il bambino è piccolo più questo è un atto meritorio, riusciamo a inserire degli strumenti che ci permettono poi di eseguire l'intervento altrettanto bene che con gli strumenti più grandi che sono ottimi per l'adulto. Un coro gospel che con la sua potente voce riesce a tirare a sé i piccoli pazienti di Pescara incuriositi e soprattutto distratti per qualche istante dalla degenza in ospedale. 50 elementi che da 10 anni si occupano di offrire spettacolo per raccogliere fondi destinati a chi vive disagio e difficoltà. Il progetto del cuore che la nostra associazione organizza ormai da 10 anni, proprio in questa occasione del nostro decennale, ha pensato proprio a chirurgia pediatrica perché negli ultimi anni soprattutto abbiamo raccolto le esigenze dei bambini per cui sapevamo di questa esigenza e abbiamo pensato di dedicarci e portare a termine questo progetto con non solo il concerto che è la parte iniziale ma poi seguire tutto l'iter per consegnare in questa giornata questo materiale fondamentale, innovativo.